Zubin spazio di approfondimento della nostra redazione oggi parliamo di libri di un libro in particolare poi in realtà si tratterebbe di un vero e proprio diario anche per la modalità di scrittura l'ha scritto un autore abruzzese doc come Marco De Eugenio ciao Marco ciao ben ritrovato non è la prima volta che sei qui nei nostri studi per presentare la tua terza fatica che si intitola cosa resta di un amore io visto che il sottotitolo parla di un diario di un cuore spezzato ecco qua la copertina del libro di protos edizioni poi parleremo anche della casa editrice di questo libro io sottolineo proprio la parola diario perché poi in realtà sfogliando le pagine di questo tuo lavoro trattasi proprio veramente di un diario con date e circostanze ecco come nasce l'idea di creare un libro anche temporalmente scansionato cioè dargli proprio una temporalità su ogni pagina sì ho preferito rispetto al primo affidarmi al diario semplicemente perché il diario è la forma ho pensato dove apri i tuoi sentimenti il tuo cuore la tua anima in maniera più più completa più profonda e quindi in quel modo il protagonista poteva parlare alla sua ex al suo amore perduto in una maniera molto più appunto profonda rispetto a come per esempio avevo fatto nel nel primo il primo era naturalmente aveva era una sorta di manuale per come gestire il lutto amoroso quindi era concentrato sul 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 dolore e lì parlava al alle persone il diciamo che ero io poi in realtà il protagonista raccontava il tutto qui invece appunto è lui che parla a lei e per me quindi questo funziona molto di più il primo era più una sorta di di libro di riflessione con molto spazio sentimenti questo è un libro di sentimenti dove c'è poi c'è spazio sulle riflessioni sull'amore ma non solo proprio sulla condizione umana la storia è di alex è chiara poi magari ti chiederò quanto tu sia alex o comunque quanto tu ti sia sentito alex scrivendo scrivendo questo diario di fatto possiamo dire che è un po la proposizione delle cose fatte cioè a cose terminate un bilancio di quella che è stata la storia d'amore ci vado molto lontano sì sì alla fine è quello e penso che è una considerazione che accomuna tante persone cioè ci sono delle grandi storie d'amore dei grossi momenti anche delle promesse fatte magari il primo bacio che tante coppie tante persone che hanno vissuto degli amori felici ricordano e alla fine del della fiera il il protagonista si chiede proprio cosa rimane cerca di tracciare un bilancio naturalmente sono più che più tentativi che risposte definitive però ripeto una un po tutti o io spero che molti si chiederanno dei grossi amori che cosa rimane che cosa resta e naturalmente il la risposta non può essere solo rancore e né quello di dimenticare no io credo che ci bisogna poi esserci spazio per mettere a me anche non sia un amore che che ha avuto delle condizioni tragiche purtroppo sappiamo che la cronaca ci regala anche questo però tranne in quei casi per me va messo nella credenza dei ricordi in qualche modo va anche nobilitato e perché poi sono cose che sono i momenti più belli forse della vita di molte persone e quindi bisogna saper collocare anche dargli un significato non è facile perché poi una a fine di un amore lascia molte amarezze anche delle cicatrici però un tentativo che va fatto e alex prova a farlo o ci sono trovato molto interessante questo lavoro perché poi ci sono anche degli aspetti che normalmente capitano a tutti che però difficilmente si trovano scritti sui libri sui libri sui fogli di un libro perché poi in realtà nei rapporti quando finiscono restano ovviamente le macerie amorose ma restano anche i rapporti coltivati durante con i genitori con gli amici che tu dici spesso e volentieri magari vanno via non fanno più parte della tua vita solo semplicemente automaticamente perché il rapporto tra due persone finisce è quello sì uno degli aspetti ce ne oltre a perdere la persona amata poi perdi anche tutto un mondo che avevi costruito con con lei con con il partner ed è lui soffre di di questo naturalmente perché ripeto si si crea un mondo una serie una serie di relazioni alcuni sopravvivono alcuni no altri alcuni amici in comune ti dimenticano poi pure come nota l'autore in coppia si è sempre un po più forti e quindi anche negli inviti nella vita sociale più facile da solo un po più dura e quindi racconta pure pure questo è un racconto ma ti chiedo al di là di questo secondo te c'è una modalità alternativa per non far succedere tutto questo oppure è inevitabile pensi che che alla fine della scrittura quelli siano a prodi a cui comunque dobbiamo tendere tutti ma ti ti confesso che che un po per me la condizione d'amore sotto alcuni aspetti un po tragica nel senso che se un amore mantiene le promesse le premesse un po con l'età si ingiallisce perché chiaramente poi un amore che dura tanto qualcosa poi un po perde diciamo di smalto alcuni addirittura si può dire finiscono e se invece finisce così rimane un po nel mito come un po è successo ad alex però chiaramente lascia delle delle cicatrici tradisce le promesse le promesse quindi un po così poi ci sono le eccezioni poi ci sono degli amori che sono per tutta la vita ci sono anche amori che riescono a rinnovarsi però un po anche i numeri delle separazioni delle i numeri ci raccontano che spesso amore finisce però chiaro che poi soprattutto se c'è la famiglia il credo che bisogna poi dar seguito pure al progetto amoroso per cui diciamo la soluzione non è sicuramente quella di passare da fior in fiore però ecco sì si sta comunque come dici tu un po l'approdo tra quasi naturale un po tutti sì sì comunque vivono tormenti d'amore chi chi magari è sposato è riuscito a tenerlo e chi magari invece l'ha perso come alex sentiti poi c'è una parte anche quella molto interessante che è la la fase 2 cioè il tentativo di riscatto perché poi si cerca sempre di colmare quello che manca anche i tentativi web oggi ci sono tante possibilità applicazioni siti di incontri una modalità anche un po se vogliamo e l'ho trovata anche un po goffa per chi viene fuori ovviamente da una specie di lutto cercare di riscattarsi subito e farlo magari nella maniera anche più in fretta possibile con inevitabili errori e soprattutto anche poco romantica ormai diciamo che un po tutti soprattutto penso fascia età dai 30 ai 50 perso l'amore si affidano alle varie chat tra cui tinder ma io sicuramente non le demonizzerei nel senso che comunque sono obiettivamente soprattutto nelle grandi città io vivo pure a roma dei facilitatori però è inevitabile che comunque diciamo da seguito anche a volte a dei delle situazioni un po tragico comiche perché sostanzialmente poi conosci una persona in chat tramite foto e quindi spesso i risultati sono un po così però a volte comunque anche da lì nascono belle relazioni ho sentito anche di persone che si sono sposati dopo essersi conosciuti in chat però è chiaro che il più delle volte diciamo uno sogna l'amore che immagina un amore nasce da un incontro una sorta di fuori programma e quello un po lo contraddice senti c'è un passaggio una pagina del libro che quasi tutta vuota in cui c'è solo questo interrogativo meglio amare o essere amati non te lo chiedo a te lo chiedo ad alex nel libro cosa ti risponderebbe cosa ci risponderebbe la domanda è per tutti alex risponderebbe forse quello che rispondo io quando era più giovane forse avrebbe detto essere amati anche un po per egoismo poi un po tutti piace appunto essere amati dopo aver conosciuto il grande amore tutto sommato preferisce più dare e anzi poi lui per molti anni sostanzialmente ama nonostante tutto in segreto e a distanza in silenzio quindi la risposta è meglio amare ok nella sinossi poi in una specie di resoconto finale cioè alex e chiara un tempo si erano tenuti per mano questo questo fatto di ricorrere sempre a un tempo un tempo ti chiedo perché poi è un dubbio che che di cui abbiamo parlato in più di una circostanza non solo per questioni sentimentali ma anche per altre questioni questo ricorso al tempo passato che spesso viene visto come età dell'oro ma forse non è un po esagerato forse è proprio perché ci manca qualcosa che diamo un valore forse anche superiore al tempo che è passato sì qui naturalmente si è un libro soprattutto nell'ultima parte di nostalgia e naturalmente la nostalgia un po rende più bello più colorato il passato però è anche vero che a volte senza la realtà è anche più semplice cioè sono stati effettivamente i giorni più pieni più felici di di alex e penso che in molti si ritroveranno cioè ci sono molti di noi hanno vissuto quei giorni d'amore più spensierati più piedi che poi non sempre nella vita tornano quindi effettivamente in quel caso la nostalgia è un po giustificata effettivamente sono stati forse i giorni più felici speriamo che poi alex li possa rivivere nella parte finale c'è anche un un richiamo visto che siamo in questo libro nella parte finale del 2020 è inserito proprio pienamente nel nostro tempo perché c'è anche il lockdown la pandemia ecco come come pensi che l'abbiano vissuto le chiusure che abbiamo avuto in italia anche con insomma un vutto d'amore come si vive meglio o peggio e nel allora lì il lockdown un po fa da sottofondo nel senso che comunque non è che sia poi così importante però offre l'opportunità ad alex di di fare un bilancio quindi di chiudersi perché lui lavora in smart working o comunque sta più tempo a casa come purtroppo è successo a tutti e quindi un'occasione anche di ripescare delle foto dal dal computer alcune cartacee quindi penso che per per chi aveva perso l'amore l'aveva in crisi quei giorni siano stati un po più difficili però è anche occasione appunto per per fare bilanci e anche per coltivare qualche nostalgia che che sono dei dolcissimi dolori quindi da una parte ci fanno stare male da una parte un po ci danno anche quella sensazione di vitalità che magari il presente senza la persona amata non non ci dà marco vizio che siamo quasi in chiusura allora in anzitutto invitiamo ad acquistare cosa resta di un amore marco di eugenio diario di un amore spezzato perché comunque poi è molto particolare anche lo stile di scrittura hai messo proprio spesso e volentieri hai trascritto delle chat whatsapp ovviamente frutto della tua fantasia per essere più aderente con quella che la nostra realtà però ti chiedo questo lavoro quanto ti ha impegnato e poi la vicinanza di una casa editrice come protossedizione e il lavoro è stato un lavoro naturalmente con delle forti componenti autobiografiche penso che si è che si è capito e quindi mentre la mia vita andava avanti e raccoglievo anche le esperienze delle persone più o care vicino a me andava arricchito quindi ci ho messo un po perché proprio dovevo raccogliere c'era una vita da raccontare che al tempo stesso scorreva e quindi c'è molta veridicità e anche spero e penso molto sentimento e la casa editrice è stata fondamentale questa è stata una bella intuizione anche dell'agente letterario gianluca zanella perché la casa editrice è una casa editrice al femminile giovane che però sta facendo le cose con molto entusiasmo e con molta professionalità loro hanno sposato il libro e io diciamo sposato loro mi stanno dando molto sostegno e questo è cosa importante perché poi spesso succede che uno può pubblicare anche con delle case editrici un po più grandi però in realtà sostanzialmente ti abbandonano pubblicano il libro e poi buonanotte e invece loro l'hanno ripeto sposato sin dall'inizio e stanno vivendo questo matrimonio con me quindi stiamo vivendo dell'esperienza belle sono contento e da questo punto di vista invito pure a chi chi scrive spesso a volte anche a se trova una casa editrice anche piccola ma ben ben motivata a preferirla magari anche ad alcune più grandi che poi come dicevo non sempre poi sostengono il lo scrittore una curiosità perché tu da noi si è venuto un tempo fa anche a presentare il tuo libro su Sid Vicious che è stato di fatto una parentesi tra i tuoi due lavori che invece parlano trattano tendenzialmente di amore ci sono molti richiami alla musica all'interno del libro ai tuoi gusti musicali che peraltro in parte condividiamo ti chiedo quanto è stato fondamentale l'impatto della musica quanto può esserlo all'interno di un rapporto sentimentale soprattutto alla fine di un rapporto sentimentale se la musica è per me comunque è importante anche perché va oltre il semplice piacere dell'ascolto poi diventa anche un po da appassionante rock buona attitudine di vita o comunque ti ti da molto ed è importante perché poi diventa una colonna sonora nel caso il protagonista un po nel momento più più difficoltoso quella del del dolore appena aver perso l'amore si affida molto a max pezzali che come sappiamo si diciamo è il cantante a direi quasi il cantore della della nostalgia è importante poi importante anche prima quando i due condividono la musica e pure quella è una cosa molto bella penso che se una coppia condivide delle canzoni e poi magari dei concerti quello fa da colonna sonora la storia e un po poi anche da ricordo dopo ti ti faccio una domanda visto che siamo veramente in chiusura so per esperienza diretta ma anche te lo sai che spesso le sventure tirano un po di più delle cose delle cose favorevoli delle cose positive però dopo aver raccontato la fine poi diciamo il bilancio di che cosa resta di un'avventura pensi per il futuro che ci possa essere spazio per qualcosa che guarda ad un orizzonte magari migliore e guarda questo è un dubbio che che mi ponevo cioè se se come un amore felice probabilmente fa in modo che tu non abbia il bisogno di scriverlo certo e quindi probabilmente se io credo che le storie con le pente nonostante la disney non siano meno la gente purtroppo ci si ritrovi un po di meno quindi non lo so non immagino un libro con le pente o magari ci potrebbe pure stare un e pente lo spero per fanno magari non con le pente però in cui il protagonista abbia si sia messo definitivamente alle spalle tutto però dico che sia un po alex è veramente pure chi scrive comunque l'hanno messo nella credenza dei ricordi è passato e non fa più male quindi in qualche modo già lui poi nel ha elaborato il il lutto però sì un libro però nel nel mezzo ci deve essere sempre un po di tormento per come è normale che sia come dicevo quelle le persone si ritrovano nelle difficoltà che purtroppo l'amore porta con sé senti marco risposta telegrafica cosa resta di un amore che finisce resta tutto anche quanto non è rimasto più niente lui quello che che pensa e spera beh ci sono due modi vado veloce per tutto quello che è stato bello rimane nei ricordi della persona amata di lui che l'ha vissuto e degli amici e però poi c'è il timore che gli amici dimentichano tutto e soprattutto anche la persona amata abbia messo veramente alle spalle l'amore quindi praticamente quei quelle foto come se scomparissero quindi forse la soluzione è che c'è un file dell'amore una sorta di di server dove tutti quei ricordi tutte quelle promesse tutti quei baci sono stati conservati vengono zippati in qualche modo sono stati salvati sono stati salvati e magari compressi ci dici dove lo possiamo trovare il libro allora questo diciamo nella casa editrice nel online protos edizioni consiglio di di ordinarlo direttamente lì e quindi credo che sia la soluzione più più facile più smart cosa resta di un amore diario di un cuore spezzato grazie a marco di eugenio grazie marco in bocca al lupo grazie crepi il lupo grazie nove al prossimo libro così concludiamo la trilogia speriamo speriamo grazie grazie a voi che ci avete seguito zoom in torna presto con tanti altri argomenti da trattare una buona giornata